Ok, avevo detto che facevo la partita normale, rapida Anche perché ranked sono diventato un po' più scarso, quindi preferirei non giocare subito ranked Dimmi che non sono in attacco, non mi piace, ho mai in attacco In realtà dipende dalle... Goldshire Way? Cos'è, WoW? Mo' ho già fatto caso, Goldshire è tipo... Eh, vabbè, ma non ho già fregato a cosa, eh vabbè, prendiamolo Aha Andiamo Andiamo, Torbjord Torbjord, vai Io non vedo il mio ping Cioè, vedo che... Ho la schermata di... X-split davanti agli occhi, quindi mi sta urtando Vediamo se la posso spostare Allora, setting Posso spostare la cosa? No, non me la dice Vorrei vedere quanto pingopica l'altro Niente, non posso Andiamo in attacco Sembra cambiato un po' graficamente, non mi sbaglio Non ho toccato impostazioni o altra Però mi sembra cambiato un pochettino Oh, è da tanto che non ci gioco Non ho toccato un po' graficamente, non mi sembra cambiato un po' grafico Oh, no, non mi sembra cambiato un po' grafico L'odio Ma il nostro Jankrat, dove sta? Meh Già perso così di cattiveria? Su serio? Beh, allora Si fa una cosa solo Torna giù Torna giù Torna giù Fastidio Ok Prendiamo lui Perfetto 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 Bella la risata Ma perché non lo stavo Cioè io lo stavo seguendo pure Che cacchio di problemi ho GG Intermissi Ok Liamo Spacola Spacola Non c'è nessuno puoi andiamo è già ancora atto ah sti cacchi di aiutare non se vai bella non move la immaginazione è la essenza della scuola qualcuno che viene? tanto dispiace effettivamente non è buono prendere un tank più o meno corpo a corpo contro delle cose che avanzano ready to work è è è è è è è è Sì 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 Hanno diminuito il... Ah ma devo tenere per un monte io che cacchio C'è una devastata umana E' scomparsa alla fine, non è morto, ma che cosa? Eh vabbè, bel nome. Come è che l'ho colpito dietro lo scudo? A me mi è sembrato dietro lo scudo. Beh, non lo so, non ci ho fatto a caso. Dai, un'altra partita già la facciamo comunque. Devo ancora riprendere, quindi meh. Travelling to Dorado. Dai. Che cavolo, mi hanno preso ancora un'altra volta cosa? Eh vabbè, si dai, su serio. Come on, let's bring it together. Come on, let's build a forti. Vabbè, bella tazas. Vabbè, bella tazas. 5 4 3 2 1 Oh no! 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 Andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Vai via Eh, non è tutto l'acqua Quella la salsa è stessa bassa A posto Dov'è vero se chiama salsa? Vai via Veramente se chiama salsa Se chiama salsa Vai via A me ci c'è una simpatico alla nostra bra Corri Ripper ti culo io Arriva Arriba Ready for action Oh no Quello era l'altro Jedic Hanno vicino di che ti cura No, cacchio I pingwini, sento vreddo Va via Ma che sei scemo Va via Amico ti curo io Eh già Vabbè le cure fornite ce le ho io Almeno quella Eh me lo so beccato da dietro E io che volevo fare una partita perfetta Lo so morto una volta Vai Lucia No volevo prendere delle cose Vai via Amico ti curo io Morta Però sono morto pure io Non vale Questa mi piace quella partita Sarà perché stiamo vincendo eh Però vabbè 360 Quasi 360 Perché mi Di Jeddick Cos'è ha battuto Far in vola Mi sa di sì Ah no Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Sto pure riprendendo coso, sto pure riprendendo League of Legends, quindi più o meno. Stiamo riprendendo un po' tutto, stiamo riprendendo Overwatch, stiamo riprendendo cosa, League of Legends, quindi per oggi spero basta di overwatch. Settimana prossima se riesco cerco di lasciare a prendere il nuovo eroe. Apri foto forse, non voglio più giocare a base, mi sta ne di poi dice questo. Apri, apri, vediamo cosa esce. Due piche, no ho duplicato, è io questa qua che l'ho fatta, tristezza. 150 monetini, buono. Vabbè, Ganji della scherma, a posto. E boh, vediamo cosa potremmo fare, Galleria degli eroi. Non è che lui si ha ottenuto qualcosina di più? Eh sì, ho ottenuto questa skin. Centravanti. Quanto costano? No, 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 si possono solo sbloccare, ok. Poi l'ho ottenuta... Ganji non ha abbiato nulla, giusto? Eh no. Questa skin mi piace a me. Dite quello che volete, però... Anzi no, questa qua, ok. Ho già cambiato idea di nire verde a posto. Eri per su set qua, vabbè, mi dispiace. Ah no, qua l'ho utilizzata una volta, basta, non mi piace più. Più che altro per il fatto che col... Se sparo... O prendo il nemico o prendo l'alleato. E questa cosa mi dà fastidio. Vivi su adventure, che è sta roba? E boh. Diciamo che per questo video era tutto. E vediamo un attimo una cosa. Io quasi quasi questa qua me la prendo, perché a me stra piace sta skin. Anzi, sapete che vi dico? Ho da cercare un'altra skin in realtà. Allora. No, ok, non mi piaceva questa. Forse quella che mi piaceva era... No, non mi piace, no. Di Road Dog? No, assolutamente. No, infatti me le schifo. Di Winston no, di Zen Yacht nemmeno, credo. No, anche se quella viola non mi dispiace. Di Mercy no, di Mei no, perché era quella verde al massimo che mi piaceva, no. Sblocco l'unica differente di viola. Cioè, questa qua o questa qua? Io preferisco di gran lunga questa. Anche se ho detto che non la giocherò mai, ma se mi è capitato di utilizzarla, utilizzerei almeno questa skin. Che la preferisco di gran lunga. E quindi, per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima. Magari settimana prossima faccio League of Legends, non lo so. Ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti.